Smart Attack, una nuova misura a sostegno degli investimenti in digitale, impresa 4.0 e transizione energetica delle piccole e medie imprese. Una misura che prevede 25 milioni e mezzo di dotazione, di cui 4 milioni e mezzo per le imprese collocate nelle aree di crisi complessa, ma soprattutto una misura che vuole avere il sapore della sfida, vuole sfidare le piccole e medie imprese ad affrontare quel complesso percorso di trasformazione digitale che oggi è sempre più importante per garantirne la sopravvivenza, la competitività e soprattutto la crescita dimensionale. Un tipo di sfida complessa, molte volte con un pregiudizio degli imprenditori che è l'ostacolo, il piccolo imprenditore che spesso non ha competenze digitali pensa che si tratti di investimenti troppo grandi, qualcosa che solo le grandi imprese possono fare con un ritorno sugli investimenti troppo lontano del tempo. Insomma, tende a prevalere una visione per cui gli investimenti in digitali, impresa 4.0, siano più un costo che un'opportunità vera per l'impresa. Noi riteniamo invece che è proprio per la piccola e medie impresa che questi investimenti hanno una capacità di rottura, di breakthrough, di cambio di paradigma, perché la grande impresa è già strutturata e più propensa a fare investimenti nel digitale, i suoi processi sono già più digitali, la piccola impresa invece deve dotarsi di nuove tecnologie che non è vero che costano molto. È importante però seguire un percorso, è importante ad esempio, come previsto dal nostro bando, che venga effettuata un'attività di digital assessment, un'attività supportata da consulenti che consentono all'impresa di valutare in quale fase del ciclo di maturità digitale si trovi e qual è il percorso più adatto per lei per affrontare il percorso di trasformazione digitale. Sappiamo che le competenze sono un tema centrale e non è un caso che in questo bando noi abbiamo previsto, oltre la possibilità di finanziare tutta l'attività di digital assessment, di rendere finanziabili anche le attività di consulenza che sono legate agli investimenti, perché sappiamo bene che l'imprenditore va accompagnato in questo percorso. Quindi digital assessment, rimborso delle spese investimenti di consulenza, sono un tratto essenziale di questi investimenti. Ma sappiamo anche che è cambiato il modo di investimento in tecnologia, per cui se una volta quando si compravano le dotazioni tecnologiche, si compravano magari dei server, o ai tempi c'erano gli S400, c'era una quota di ammortamento, oggi le tecnologie si acquistano con un contratto di subscription, per cui è importante rimborsare quello che ogni anno ci troviamo a pagare, che è la spesa che paghiamo ad esempio per tutte le attività in cloud. Un bando quindi innovativo, un bando innovativo che tiene anche conto del fatto che spesso per dotarsi di un nuovo sistema produttivo bisogna anche ampliare le dimensioni dello stabilimento e prevede anche un contributo limitato a una percentuale sull'investimento per l'ampliamento dello stabilimento. Ma ritornando al tema delle tecnologie 4.0, anche qui esiste un pregiudizio fondamentale che è quello che si pensa che le tecnologie 4.0 si leghino solo a nuovi investimenti nell'acquisto di grandi macchinari. È invece vero il contrario, il tema del 4.0 significa mettere in connessione tra loro i macchinari produttivi e fare guidare il processo produttivo dai dati. Per fare questo anche su un impianto di vecchia generazione basta installare della sensoristica IoT che gli consente, mantenendo invariato l'impianto, di mettere in collegamento le macchine con un investimento spesso minimo. La vera aspetta innovativa del 4.0 è che tutti i processi aziendali, compreso quelli produttivi, sono legati dai dati e quindi sarà magari importante collegare l'attività commerciale, con un controllo della rete di vendita più preciso, con la possibilità di raggiungere un mercato più ampio senza sostenere i grandi costi di una rete commerciale, ma gestendo magari in maniera digitale poi l'intero ciclo dell'ordine fino ad arrivare ai rapporti con i propri fornitori. Una gestione digitalizzata di tutti i processi aziendali, anche per le piccole imprese, anche per i piccoli imprenditori, soprattutto per queste imprese c'è la necessità di investire e favorire in questo cambiamento, perché la nostra sfida per l'Umbria è proprio quella di portare le piccole e medie imprese a crescere, a investire nel digitale, perché ad esempio investendo nel digitale si può favorire anche l'attività di internazionalizzazione. Il concetto di lontananza fisica dei mercati viene spesso drasticamente abbattuta grazie alle piattaforme tecnologiche, per cui è possibile senza anche muoversi dalla propria sede di poter entrare in connessione con un numero di clienti molto più ampio. È ovvio, questo richiede una digitalizzazione di tutti i processi che in parte riguardano quelli produttivi, ma possono riguardare quelli commerciali, possono riguardare anche il sistema della finanza aziendale. Quindi SmartAttack è una sfida che noi vogliamo lanciare agli imprenditori, vogliamo lanciare ai figli degli imprenditori, perché sappiamo bene che molte di queste aziende sono nate da un'intuzione geniale di un imprenditore che magari svolgeva attività di manutenzione per una grande industria e aveva accolto in un dettaglio tecnologico la possibilità di inventarsi un macchinario e che ora quell'intuzione gli ha consentito di avere una propria azienda, ma si trova un bivio nella crescita. Questo scalino della crescita oggi l'imprenditore lo può percorrere solo investendo in nuove tecnologie, in modo particolare quelli legati al digitale e all'impresa 4.0. Noi vogliamo accompagnare gli imprenditori, ma vogliamo spesso accompagnare le seconde generazioni degli imprenditori, quelli più propensi all'innovazione, perché noi siamo profondamente convinti che il futuro di questa regione passi per l'impresa, passi proprio per il vostro futuro, per il futuro delle piccole e medie imprese. È per questo che abbiamo deciso di lanciarvi una sfida, ci abbiamo messo 25 milioni proprio a supporto degli investimenti. Sono convinto che l'Umbria che ha dimostrato così tante volte nel tempo di avere intuizioni, genio, capacità di guardare lontano, saprà affrontare questa sfida e le vostre imprese troveranno, anche in questi strumenti che la regione Umbria ha messo in campo, un grande sostegno per una nuova stagione di investimenti che traghetti la nostra regione verso quel grande mondo che si chiama digitale.